Vieni da me, vieni da me, ti sto chiamando, vieni da me. Professore, sogno l'oscurità, il male nasce dentro di noi o viene dall'altilà. Lui sta arrivando. Sta arrivando. Lui sta arrivando da noi. Sta arrivando. Chi? Chi è che sta arrivando, figlia mia? Siamo qui per incontrare il vampiro. Non spera tu.